Carissimi crotonesi, siamo alla 27esima puntata. Amico mio, i guai della pignata, gli saper la cucchiaia di chi rimina. Amico mio, i guai della pentola riconosci il cucchiaio che rimescola. Vivi sub pectro vulnus, cioè le croce vivono all'interno del cuore, diceva Virgilio nelle bucoliche. Linardo diceva sempre alla moglie, se il piacere non ne fa, il piacere manca nel tenere. Se vuoi che l'amicizia si mantiene, il tuo piatto che va, è un altro piatteggio che vera. Amico campagnolo, un rimente a pesce in tuo penale. L'amico compagnolo non fa progresso nella vita e non riesce a mettere pesce nel pennello. E a mia, che mi piace? È un'espressione che praticamente, sin dai immemorabili, è presente nel cuore e nell'anima degli uomini. i benefici. Ognuno, quando riceve una proposta, quando riceve un qualcosa che possa essere d'aiuto a chi la propone, ma anche a chi la riceve, riceve una risposta metaforica. e a mia, che mi piace, che privilegi ho, che benefici ho di quello che tu mi stai proponendo. Dovete adesso. C'è praticamente questo scambio virtuale, ma non proprio, di favore. E questo succede dalla notte dei tempi. L'amico ti saluta quando tene, e ti saluta cento volte all'ora. Ma se per caso cade in bascia fortuna, perde l'amico e lo saluta pure. L'amico ipocrita, che amico non è, è gelante quando sei in auge, altrimenti fa finta di non conoscere. Bisogna distinguere le conoscenze, anche se approfondite, dalle amicizie vere. E l'esperienza e il tempo, che ti dà la possibilità di discernere, di discernere. L'amico da uno conoscente. Chi tra gli amici e gli parenti spera, semina all'acqua e da rovento spara. Chi negli amici e nei parenti spera, semina nell'acqua. E al vento praticamente vanno a finire tutti i semi. Sperare agli amici e nei parenti è come seminare all'acqua e al vento. Non sempre, ma quasi sempre. Si evoca l'amicizia, si mantena. A detenere verso l'amico comporto, verso l'amico disponibilità, verso l'amico una speranza che in tuo cuore vena. Cioè molte persone hanno bisogno dell'altro per confidarsi, per avere un sostegno anche morale, anche sotto forma di una parola. E se l'amicizia si mantiene in questi pinati, è un'amicizia vera. Quando si spicciano il vino da cotta, gli amici si affilano tutto. Specialmente praticamente quando la botte è piena ed è di buon vino. Tutti corrono. E in tal caso non è che c'è solo il vino. C'è un pezzicareggio qua a sardeggia. C'è praticamente un satezzo improscinato con le patate. C'è l'alveggio che è tutto piccante. Che cosa? Ti sceglie in altre cose. Quando può, la cotta si finisce. Gli amici che vanno cercando per avere compagnia e non solo. Te ne puoi scordare. C'è un'amicizia? Eh sì, perché solo c'è un'amicizia vera. Non mora mai né in tuo spirito né nel tuo corpo. L'amico, quando senta l'amico, si minta la camisa e nasce fuori. Cioè, anche se il tempo non è buono, anche se il tempo è cattivo, anche se le condizioni della vita non sono tanto eccellenti, l'amico è sempre a fianco all'amico. L'amico Carrucciaro, sacca stritta, è reso il champagnolo. L'amico Avaro è prodigo inconvenevole. Tante sorrisi, tante sollecitudini, tante parole di conforte. Sembra un vero compagnone, ma è abito. Specialmente quando ci si tocca la tasca, come diciamo noi a Crotona, a sacchi di pupo. La tasca di poppa dove si tiene il portafoglio. Carrucciaro, qui ha le parole di carrettiere, persona notoriamente stritta, cioè avare, e quindi da considerarsi etimologicamente un termine onomatopeico, usato nel linguaggio crotonese come sinonimo di stritta. Inizialmente veniva usato in senso comparativo. E' come uno Carrucciaro, per passare poi è uno Carrucciaro. Un mare a tutti i mesi d'una base e d'una pure mozzicone. Il mare dà in tutti i mesi baci e morsi. Fino a mai un tramutato sai. E' per stare più sicuro quando vedi il metriatore. Fino a maggio non cambiare modo di vestire. Anzi, per stare più sicuro devi indossare vestiti più leggeri quando vedi i contadini mettere. Sita settembrina, sita vedovina. Sposa settembrina, sposa vedova. Cioè questo è un modo di dire che si tramanda di generazione e suggerisce di non sposarsi a settembre. Per passare i rosoli ci vuole un acquimaio. Per passare i geloni ci vogliono le piogge di bacio. Meglio mamma tutti i cianci e non solo catetincia. Bisogna stare attenti al sole quando, specialmente in questo periodo, ti muore per davvero. Prima a Nidia e poi a Figlia. L'Aurora, figlia dell'Alba, è preceduto da un sottile strato di nebbia. che non deve fare preoccupare, perché precede un bel tempo. acconsa sempre quattro uova in uno piatto. Cioè, aggiusta sempre quattro uova in uno piatto. Riesce a camuffare i fatti reali, aggiustando tutte le cose. Anche se di aggiustare, non aggiusto, scusate, il pasticcio delle parole, un bel niente. Un tenaro guaglio non ha il coraggio di fare una certa cosa. Un guaglio si riferisce praticamente al formaggio che si ritiene molto buono, che fa i vermi. Ed era, adesso è difficile trovarne se non nei paesi, una pietanza, perché veniva usata proprio come colazione, di un certo pregio. Ma non tutti riuscivano praticamente ad apprezzarlo. Ha piatto 4x5, cioè ha preso fischi per fiaschi. Ha ammarronato. E oggi questo succede molto spesso, perché certe volte ti vai a fidare di un qualcosa che per te può essere una speranza, per te può essere un fenomeno di cambiamento, un evento che ti dia una stersata alla vita. Ma ha piatto 4x5, cioè praticamente in effetti si è sbagliato. La mangiatura è bassa. La mangiatura è bassa. Quando si ha la pappa pronta non si fa nessuno sforzo a procurarsi, diventando oziosi e vagabondi. noi abbiamo vissuto degli anni, gli anni del boom, in una maniera non confacente alla realtà che stavamo vivendo. E abbiamo illuso diverse generazioni, pensando che tutta la vita fosse un benessere, che tutto potessero fare tutto, che la scuola era aperta a tutto. E quindi si lasciavano i vecchi mestieri, si rilasciavano le vecchie abitudini. E perché? Perché si aveva ammanciatura bassa. Certo io e certo tu. E' la cosa che ora faccio. Una volta si diceva, no? Che bisognava stare zitti per non complicare le cose. E non è così, perché diciamo, in questo modo c'è un limite e un senso a tutte le cose. In alcuni casi bisogna stare zitti. Ma quando io sto zitto e tu stai zitto, per la qualcosa non giovane a me né a te, sarebbe meglio che qualcuno ci dica e meglio di casa parlare. Chi ti vuole piare uno cancro? Chi ti vuole piare una sciolta? Chi vuole stare teso? Chi vuole uscire con i piedi davanti? Chi vuole portare quattro persone su più spazio? Chi ti vuole stelare come i porci? Chi ti vuole piare una parola? Chi ti vuole spagliare sotto l'occhio? Queste imbettive, infinite come numero, sono rivolte a parenti e a fine. Ma sono, per lo più, uno sfogo verbale che non è un blasfeme vero e proprio. Perché è impensabile che una mamma nel dire queste cose o altro del tipo ma la Pasqua che ti possa prendere o un'ora passare in un'ora d'oro o tu possa prendere una scelta a forno può essere così satanica nei confronti dei figli, del marito o dei strani. però bisogna moderarsi in questi termini perché come il ragazzo ascolta così poi trasmette e la cosa si ripete e non è una bella cosa né da dire né da ascoltare. un mischio e un bottone. E' come un mischio e un mischio. Molti sono colori che nel fare una cosa non pensano a come la fanno. Mischio vuol dire attaccare, bottone vuol dire bottone. Una volta si racconta, come Genesi ha questo detto, che una mamma disse alla propria figlia vedi che c'è un bottone che va attaccato. Questo è l'ago, questo è il filo e attaccano. La bambina con tutta la buona volontà si mise a fare ciò che era stato suggerito. Ma non tutto era andato a buon fine. Cioè il bottone era storto, non si era infilato nel protugio, per bene, non so mai. E la mamma ha rimproverato la bambina e dice, ecco che cosa l'ha fatto? Come ha mescolato questo bottone? Ma l'ha mescolato. E come è mescolato e mescolato. E poi tatticette. Se no ho fatto ciò niente. Cioè oggi questo detto, dal punto di vista metaforico, è molto in uso. Perché si fanno delle cose che non sono idonee ad essere svolte perché non si ha né la capacità né il buon senso per poterle eseguire. Grazie e arrivederci. Alla prossima. Alla prossima.